Buon pomeriggio e benvenuti all'edizione Flash del nostro OTG. Attaccata a suon di siete dei nazisti la pagina Facebook dell'Asle Toscana Sud-Est nel post dove si promuove la vaccinazione. Il direttore generale Durzo Asporto querela la polizia postale che avrebbe già individuato alcuni indirizzi dietro i nomi falsi dei commentatori. Propaganda nazi sanitaria da Terzo Reich, cittadini come cavie negli esperimenti dei vaccini, genocidio per i morti da vaccinazione, criminale bugiardi. Queste sono solo alcune delle offese e accuse che sono comparse sulla pagina Facebook dell'Asle Toscana Sud-Est mandandola in tilt per alcune ore. Tutti i post che riportavano parole come vaccinazione o simili sono stati presi d'assalto da migliaia di commenti contro i sanitari e contro la vaccinazione. I commenti sono tutti uguali a post in blocco in genere scritti con caratteri cubitali da profili che riportano lo stesso simbolo. Il direttore dell'Asle Antonio Durzo non ha perso tempo e si è recato immediatamente alla polizia postale di Arezzo a sporgere denuncia per quanto accaduto. I poliziotti hanno già inviato il materiale in procura. Il fascicolo è ora in mano al procuratore capo Roberto Rossi. Secondo la polizia postale che ha avviato le indagini si tratterebbe di profili fake collegati ad un gruppo avverso ai vaccini già noto alle autorità che organizza attacchi con un'app di messaggistica istantanea che moltiplica i commenti per creare scompiglio diffondendo notizie false o comunque prive di fondamento scientifico. Secondo quanto si è preso i poliziotti della postale avrebbero già individuato gli indirizzi IP e i server che stanno dietro ai molteplici nominativi tutti falsi che compaiono quali autori delle invettive contro la vaccinazione ai sanitari in genere. Si tratta di offese pesanti come quelle che riguardano l'accostamento di sanitari ai nazisti o traditori del giuramento di Ippocrate ma ci sono anche contenuti pseudoscientifici falsi rapporti europei che rimandano ad una propaganda contro la vaccinazione tanto cara ai Novax. Le indagini sono in corso con il DG d'Urso più intenzionato che mai a punire i responsabili di questi attacchi ai suoi sanitari. Trasportavano rifiuti pericolosi senza rispettare la apposita normativa. Due autotrasportatori sono stati denunciati dai carabinieri di Bucine alla procura della Repubblica di Arezzo. I due sono stati sorpresi durante un controllo mentre erano diretti verso un centro di conferimento rifiuti dell'Aretino. Sull'autocarro col quale viaggiavano avevano caricato elettrodomestici una caldaia, dei bidoni, cosparsi da un bagno d'olio combusto. Il tutto è stato ovviamente sottoposto a sequestro e ai due è stato contestato il reato di attività di gestione dei rifiuti non autorizzata. Torniamo alla sanità. Appello dell'assessore regionale Bezzini su Teletruria agli over 80 affinché si proteggano facendo la terza dose di vaccino. Bezzini condanna gli attacchi hacker alla ASL ed esprime solidarietà a tutti i sanitari della sud-est. L'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini ha scelto Teletruria per fare un appello agli over 80 per effettuare la terza dose booster di vaccino anti-covid. Ecco io voglio fare un appello agli 80 anni, ai 90 anni diciamo a contattare il medico di base o in alternativa andare in farmacia o ai punti di somministrazione delle aziende, ma l'appello è a fare la terza dose quanto prima perché è un passaggio importantissimo che aumenta la protezione contro il rischio di contrazione del coronavirus. Domani poi apriremo il portale per la prenotazione per le categorie dei fragili, dei vulnerabili che secondo indicazione della struttura commissariale dovranno fare la terza dose trascorsi sei mesi dalla conclusione del primo ciclo di vaccinazione. La prossima settimana apriremo il portale per tutti coloro che hanno più di 60 anni e che abbiano trascorso sei mesi dalla conclusione del ciclo di vaccinazione. Senta Sessore, cosa ne pensa dell'attacco che ha ricevuto l'ASL Toscana Sud-Est nella sua pagina Facebook da parte di molti no-vax che hanno dato di nazisti, criminali, bugiardi, assassini, genocidio ai sanitari che effettuano la vaccinazione? Voglio esprimere tutta la mia solidarietà all'azienda Toscana Sud-Est, a tutti gli operatori sanitari, certi fatti non devono ripetersi. Da una parte condanno questi atti e fanno i che faccio un invito a un confronto civile e rispettoso ed esprimo la solidarietà a tutti gli operatori sanitari. Intanto manifestazioni di solidarietà e contro gli attacchi hacker sono arrivate anche dai parlamentari Mugnai e Dettore. Cambiamo argomento, la città del Natale quest'anno si svolgerà. Intanto Gianluca Rosai di Confcommercio ha annunciato che in alcuni weekend pre-natalizi gli alberghi sono già pieni. In Piazza Grande con Gianluca Rosai della Confcommercio iniziano ad emergere le novità, le conferme per la città del Natale. Dalla Prefettura appunto sono arrivate le prime regole. Allora Rosai, di che cosa si tratta e ci dia qualche novità? Sì, intanto ripartiamo. Questa è la notizia più importante. Dal 20 di novembre tornano i mercatini tirolesi in Piazza Grande e torna alla città del Natale. L'incontro di ieri è stato un incontro molto positivo. Piazza Grande sarà il cuore della città del Natale con i mercatini tirolesi che si confermano con 32 espositori. Non ci sarà la grande baita che conteneva di solito la somministrazione e i cibi, ma ci saranno due piccole baitine. Le linee guide saranno quelle di non contingentare la piazza e di consentire alle persone di arrivare da via a Vasari e da via di Seteria, mentre ci saranno presumibilmente dei posti contingentati che saranno invece Piaggia di San Martino e via di Borgunto. Ci stiamo allargando anche con Tour Operator e Agenzia di Viaggi un po' in tutta Italia. Le ultime prenotazioni ci arrivano addirittura dal Friuli Venezia Giulia e dalla Lombardia, quindi statisticamente non sarà solo un mercatino visitato dal centro-sud, ma anche ci stiamo aprendo chiaramente alle regioni del nord. Questo anche grazie a dei forfait di mercatini di Natale del nord che non si terranno nel 2021 e quindi potremmo anche sfruttare questa possibilità in più per Arezzo. L'occupazione alberghiera ci sta dando i primi risultati perché i nostri alberghi sono già pieni in alcuni periodi, in alcuni weekend, soprattutto di dicembre e questa è una notizia positiva soprattutto per l'indotto che creano i mercatini e la città del Natale. Mercatini che saranno attivi fino al 26 di dicembre, mentre la città del Natale andrà avanti fino al 9 di gennaio. Sappiamo che il nostro territorio dispone di una grande risorsa, è quella del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, nel quale si apre una nuova stagione di volontariato. Si inizia con quattro turni tra ottobre e dicembre per vivere un'esperienza unica in un territorio ammantato di foreste secolari. Torna il volontariato nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Si inizia con quattro turni tra ottobre e dicembre per vivere un'esperienza unica. Ogni volontario potrà partecipare attivamente a progetti di promozione e conservazione della natura del parco. Le principali attività spazzeranno dalla manutenzione di sentieri e piccole strutture al controllo del territorio, al monitoraggio della fauna fino all'assistenza ai visitatori. Non mancheranno poi iniziative di socializzazione e momenti di conoscenza nelle materie che hanno attinenza con l'area protetta. I volontari saranno ospitati nelle strutture messe a disposizione dall'ente all'interno dell'area protetta e coordinati da personale qualificato. Il progetto è gestito per conto del parco dalla cooperativa Inquiete. Dal 29 al 31 ottobre si potrà così partecipare al turno breve. Per quello ordinario bisognerà invece aspettare la settimana dal 15 al 21 novembre. Torna anche la sessione fine settimanale da venerdì 10 a domenica 12 dicembre. Questo anticipa il lungo turno di Capodanno dal 27 dicembre al 5 gennaio. Il volontariato nel parco è un'esperienza per tutti, perché vuole staccare dalla quotidianità e immergersi nella natura o perché vuole immaginare un proprio progetto di vita in questi luoghi, dice il presidente Luca Santini. In tutti i casi la quantità infinita di suggestioni che l'area protetta offre permette la socializzazione dei suoi valori e trasforma rimediabilmente in estimatori difensori della natura. Continueremo a lavorare a più diversi livelli per garantire la conservazione di ambienti così essenziali alla vita dell'uomo e per rendere possibili sempre più opportunità di lavoro rivolte allo sviluppo sostenibile. Torna l'ottimismo per il futuro del convitto Regina Elena di Sansepolcro. Buone notizie dopo un periodo di incertezze. Sviluppi positivi per il futuro del convitto Regina Elena di Sansepolcro. Nei giorni scorsi vincoli burocratici che avrebbero impedito lo svolgimento dell'attività scolastica di molti ragazzi e messo a rischio vari posti di lavoro sono stati superati. Adesso il bando per l'assegnazione dei posti mancanti è in procinto di arrivare. Vi è soddisfazione dunque nella città di Piero per la risoluzione delle criticità. I problemi riguardavano l'ammissione di convittori ma sono stati risolti grazie alla collaborazione della direzione regionale dell'Inps. Sono state risolte quelle difficoltà burocratiche che sembravano di lunga e difficile soluzione e che in ogni caso avrebbero fortemente ritardato o addirittura bloccato il normale svolgimento delle attività. Un plauso dunque generale e diffuso dalle stesse istituzioni vituurgenzi per avere reso possibile la ripartenza dell'anno scolastico. Nei prossimi giorni riaprirà il punto Inps di Sansepolcro. In questo anno e mezzo dall'inizio della pandemia lo spazio era chiuso e tutte le pratiche e il lavoro sono stati svolti ad Arezzo in presenza oppure online. Adesso i cittadini potranno recarsi anche di persona allo sportello. Andiamo adesso a Foiano. La riqualificazione urbana di Foiano passa anche dei murales dell'artista di strada Cverti. Il progetto è a cura di Massimo Magurano. Un nuovo progetto color a Foiano si chiama Poetic Art. Di cosa si tratta? È un progetto di riqualificazione urbana che è iniziata questo anno, poi ovviamente ci siamo fermati per evidenti motivi e che abbiamo ripreso ora questo inverno e che proseguirà poi nei prossimi anni. Quindi è quello di riqualificare alcune aree del paese con un'arte nuova, la street art. Abbiamo iniziato qua dalla casa famiglia perché voleva essere anche un ringraziamento sia agli ospiti sia agli operatori che in questo lungo periodo hanno dato una grande mano a tutta la comunità e quindi abbiamo iniziato con questo bel progetto curato da Massimo Magurano, l'artista che l'ha fatto è Querti, quindi siamo contenti che abbia scelto Foiano. Questo alle nostre spalle è uno dei murales presenti qua alla casa famiglia. Sì, questo è uno, ce ne sono 4 o 5 sparsi più grandi e più piccoli in tutta l'area e dalle prime redazioni sembra che sia una cosa che è piaciuta. È stata una bellissima iniziativa apprezzata sia dal personale con entusiasmo ma soprattutto dagli ospiti. La presenza dello street artist è stata piacevole. Lui ha parlato anche con i nostri ospiti, gli hanno raccontato anche il loro vissuto. Tre giornate intense ma piacevoli. D'Anghiari adesso dove è stata presentata l'edizione 2021 dell'Intrepida. Già circa 600 gli iscritti alla pedalata su bici d'epoca in programma il 20 ottobre. Fabrizio Graziotti, presidente dell'Intrepida. Ci siamo, sarà un'edizione speciale perché doppia. Hanno scorso saltato, quest'anno quindi grandi emozioni. Domenica mattina, che cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, tante sorprese. Siamo carichi perché un anno ci ha stoppato purtroppo questo Covid. Quindi ripartiamo da quest'anno. L'Intrepida si farà. Un programma molto vasto di tre giorni. Quello che conta comunque è ritrovarci piano in piano e in amicizia. Con tanto divertimento in bici d'epoca. E sarà un'intrepida speciale ma un'intrepida diciamo in sicurezza. Perché quest'anno stiamo applicando tutti i protocolli Covid per dare sicurezza a tutti i nostri corridori, sia che agli stori e ai nostri abitanti. Per quanto riguarda i partecipanti, da dove arriveranno con questa edizione post-pandemia? Praticamente le iscrizioni sono già molto alte perché abbiamo già un sentone molto importante. Siamo già oltre 500 iscritti. In base poi al tempo, ma poi il tempo da parte nostra è sempre bello perché in trepida porta sole. Per quanto riguarda i percorsi? Sono sempre quelli. I percorsi ormai sono fissi. I tre percorsi 42, 85 e 120 con il nostro 40% di strade sterrate. I nostri bellissimi borghi mediovali che passiamo, Castelli e quant'altro. Quindi i percorsi sono invariati. Appuntamento? Appuntamento a questo punto da venerdì 15 alle 21 al Tatro di Andiari. E poi da lì tutta intrepida fino a domenica sera che arriva l'ultimo concorrente. Appuntamento quindi a domenica 17 ottobre. Vediamo quali sono gli appuntamenti sulla nostra emittente questa sera. Subito dopo il Tg potrete assistere a 9 e 10 in cui si parla della figura dell'infermiere di famiglia. Seguirà la prima puntata della nuova serie di Quala Zampa, il settimanale dedicato ai nostri amici animali condotto da Maddalena Pieroni e Matteo Giusti. E in conclusione, di serata, l'oroscopo in compagnia di Alessio, in diretta a partire dalle ore 23. Bene, è tutto per questa edizione pomeridiana del nostro Tg. Grazie della cortese attenzione. Buona visione e buon ascolto insieme con i nostri programmi.